Grazie. Grazie. Buongiorno. Arrivederci. Ciao piccola peggipessa. Ciao. Amuri. Vuoi guardarlo? Come si chiama lui? Si è affacciato. Ci vuoi avvicinare? Mamma, lo vuoi vedere? Meglio? Grazie, è bellissima questa cosa. E come era beauty. La carezza, no? Vuoi fare una cuccolina? Vuoi fare la carezza? Questa bimba come si chiama? Lei si chiama Anita e ha un cagnolone. Possiamo lasciare? Può colorare, comunque. Piano piano. È il tuo, è il tuo. È il tuo. È il tuo. Questo è solo per il bagnetto. Bello. Tra poco iniziano a giocare. Ciao. Ciao. Guarda questi occhi si fanno in casa. Che c'è il mondo. Mi sono sempre sveglissimi. Sì. Scusate. Aspetta, Giuseppe. Ma dovresti essere in prima. E' così così. Sì, risposta. Bravia. Nipotini. Guarda, nipotini, dai. Vediamo nipotini. Le secondi musica e vedi. Sì, arrivi. Guatánembao, Gagratibi. Grazie, scusa il famoso per la gratitudine. Il mio non è così buono. Grazie.